Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal diacono Massimo Long. Un caro saluto a tutte e tutti voi e un benvenuto a questo appuntamento con il culto evangelico. Ci raccogliamo alla presenza del Signore. Il nostro aiuto è nel nome di Dio che ci ha creati e che ci salva in Gesù Cristo, nostra speranza. Amen. Dice il salmista, come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia è assettata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e comparirò in presenza di Dio? Le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte, mentre mi dicono continuamente dov'è il tuo Dio? Ricordo con profonda commozione il tempo in cui camminavo con la folla verso la casa di Dio, tra i canti di gioia e di lode ed una moltitudine in festa. Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore e il mio Dio. Ci raccogliamo in preghiera. Signore, ti odiamo perché nella tua bontà hai voluto essere il nostro Salvatore e il nostro Dio. Quando siamo senza forza, quando ci sentiamo abbattuti, tu ci permetti di guardare a Cristo, che ha dato la sua vita perché la nostra esistenza fosse liberata e ricondotta a te. Grazie, Signore, perché in Lui hai fatto ogni cosa nuova. Hai dato a noi una nuova vita. A questa vita vogliamo prepararci in questo culto. Il tuo Spirito opera in noi, così che possiamo cercarti e trovarti, sperare in te e sostenerci gli uni gli altri, con la forza che da te riceviamo. Nel nome del Salvatore nostro, Cristo Gesù. Amen. Grazie a tutti. 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 La prima lettura di oggi la prima lettura di oggi la troviamo nel primo libro di Samuele al capitolo 24, i versetti da 1 a 20. Grazie a tutti. 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 un pezzo del vestito del suo avversario e lo lascia andare, impedendo anche ai suoi uomini di scagliarsi contro di lui. Così facendo, Davide sceglie di non aggiungere odio all'odio, sceglie di rompere il cerchio della violenza nel quale avrebbe potuto rinchiudersi con Saul. Davide non vuole atteggiarsi a giudice, non vuole schierarsi dalla parte della malvagità, vuole lasciare solo a Dio il ruolo di arbitro tra lui e Saul. E questo ha un effetto positivo su Saul, che riconosce la grandezza d'animo di Davide con queste parole. Tu sei più giusto di me, poiché tu mi hai reso bene per male, mentre io ti ho reso male per bene. E infine finisce per accettare che Davide sarà il re che gli succederà. Ci troviamo davanti ad una storia che racconta come delle situazioni conflittuali che descrivono gli esseri umani in balia delle forze del male possono essere trasformate grazie ad un'inversione totale dei valori. Quando l'odio, lo spirito di vendetta, la paura sono sul punto di portare Davide a commettere un omicidio, lui sceglie di ascoltare il suo cuore, sceglie di aprirsi ad uno spirito più grande, alla compassione, al perdono. Questa scelta gli permette di rinunciare al peggio per lasciare che il meglio accada in lui. Il tema di questa domenica parla da sé. Siamo tutte e tutti parte di una comunità di peccatori. Questo ci invita ad un percorso di umiltà nelle relazioni che abbiamo con noi stessi, con gli altri e con Dio. Essere una comunità di peccatori significa che nessuno di noi è risparmiato dal peccato e che ne siamo al tempo stesso vittime e attori. Giusto e sbagliato, verità ed errore si mescolano in noi. Nei conflitti che potrebbero opporci gli uni agli altri, è bene ricordare che la ragione e il torto non si trovano solo da una parte. E quando la violenza diventa l'unico modo per voler risolvere un conflitto, la ragione del più forte non è la migliore. La tragedia umana è che siamo sempre alla ricerca di qualcuno da incolpare e che vediamo facilmente la pagliuzza nell'occhio del nostro fratello, senza accorgerci della trave nel nostro. Nella storia di oggi Davide è riuscito a cambiare idea perché ha sentito battere il suo cuore quando ha tagliato la veste di Saudo. Il ritorno in sé stesso, alla propria interiorità, il ritorno alla sua umanità gli hanno permesso di non commettere l'atto fatale. Tutte le condizioni gli erano favorevoli, avrebbe potuto sferrare il colpo di grazia al suo nemico, ma ha scelto di non cedere alla violenza. Riconosce in Saul colui che è stato unto, che ha ricevuto la sua autorità da parte di Dio stesso e a Dio chiede di essere giudice tra lui e Saul. Non vuole schierarsi dalla parte dei cattivi, di chi minaccia la vita del re. Una bella lezione di umiltà, di saggezza da parte del futuro re. Una bella lezione anche per noi, quando veniamo presi dalla spirale dell'odio o della violenza, quando la nostra prima tentazione sarebbe quella di vendicarci, di regolare i conti con i nostri avversari, usando la forza, di lasciare spazio al nostro ego. Quando siamo intrappolati dai conflitti che colpiscono noi o anche le nostre comunità, per uscirne niente è più importante di ritornare al senso delle cose. Davide è stato in grado di fare un passo indietro rispetto ai suoi pensieri, di modificare la sua azione, ricordando che la regalità non è un bene da monopolizzare o da salvaguardare con le proprie forze, come sta cercando di fare Saul, che non è altro che un re sospeso. Davide riconosce la regalità come un bene che proviene da Dio stesso. Solo Dio può dare autorità al re e solo Dio può essere giudice delle azioni compiute dal re. Quando gli ego si scontrano nelle lotte intestine, è tempo di tornare all'essenziale, di tornare a riflettere sul senso delle cose, per trovare la pace. Solo la ricerca di valori più grandi di noi stessi e al cui servizio siamo pronti a convergere con le nostre energie. Possono liberarci da noi stessi, dalle nostre paure, dai nostri odi e dalla violenza che minacciano di distruggerci. E l'esempio di Cristo non è forse eloquente? Egli ha saputo farsi carico di tutte le forze negative, dell'odio, senza mai rinnegare se stesso, sfidando tutti a fare il bene. ha messo in pratica il suo stesso insegnamento, come leggiamo nell'Evangelo di Matteo. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi, a loro, anche nei confronti di chi ci fa del male. Gesù ci insegna ad amare anche il nostro nemico, ci invita a porgere l'altra guancia, ma non come atteggiamento di sottomissione, ma per affermare con forza che la dignità umana non può essere acquisita o salvata attraverso la violenza, né negata da chiunque. Essa è un dono iscritto da Dio stesso nel cuore della nostra umanità, per il fatto che siamo creati a sua immagine e viviamo nel beneficio dell'amore che Dio ha per noi. Niente e nessuno potrà mai privarci di questa dignità, ma ciascuna e ciascuno di noi è chiamato a riconoscerla, in noi stessi e in ogni persona, al di là di tutte le contingenze esterne che vorrebbero impedirne il riconoscimento. Un esercizio davvero difficile, ma altrettanto benedico per la dignità umana di tutti e per la vita comunitaria a cui tutte e tutti siamo chiamati. Amo. Di pace e regno e mezzo a noi verrà, la pace a noi promessa dal Signore, all'ordine di prendo con corvi dell'amore, e sulla terra l'odio sparirà. Ma potrà mai in guerra il regno trionfar, se il mondo crolla ormai nell'opulenza, e apprezza solo l'afro della violenza, e in armi e guerre sole confidar. Venite amici, dice Dio d'amor, costruite in voi la pace e l'amicizia, abbia chi soffre offrese di ingiustizia, egli è un fratello amato dal Signore. Ci vogliamo raccogliere in preghiera. Dio, nostro Padre, ti preghiamo per coloro che sono intrappolati nella spirale della violenza e del desiderio di farsi giustizia. Liberali da ogni spirito di odio e di vendetta. Insegnaci a non fare gli altri quello che non vorremmo fosse fatto a noi. Ti preghiamo per tutti i capi dei popoli, per tutte e tutti coloro che esercitano l'autorità. Ispira loro un amore più grande della paura e dell'odio, e dà loro il coraggio di impegnarsi in percorsi di giustizia e di riconciliazione. Fa crescere in noi i semi di speranza e di pace. Instilla il tuo spirito di amore e fiducia. Incoraggia chi si impegna contro ogni forma di violenza e cerca di promuovere la pace. Non permettere che restiamo insensibili di fronte alle immagini di sofferenza che quotidianamente ci sono proposte dai mezzi di comunicazione. Scuoti le nostre coscienze. Donaci la forza e il coraggio di essere la voce di chi oggi è privato della dignità e di ogni diritto, di quanti pagano le conseguenze di queste guerre assurde. Signore, affretta il momento in cui potremo vivere in un mondo riconciliato, un mondo dove come nuove creature saremo capaci di annunciare la Tua grazia. Tutto questo te lo chiediamo nel nome del Tuo Figlio Gesù e in comunione con tutti i nostri fratelli e sorelle nella fede. Ti preghiamo dicendo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo o anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il Regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amo. Grazie a tutti. al Santo Spirito consigliere gloria, gloria, eterno me ed ora accogliamo la benedizione del Signore il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo andate in pace e la pace del Signore sia con tutte e tutti voi oggi e per sempre Amen Avete ascoltato il culto evangelico valdese la predicazione di oggi è stata curata dal diacono Massimo Long Grazie